Benvenuti da Federico Bulgarini. Abbiamo il piacere di incontrare il dottor Cristian Citterio, da poco fondatore di Acropolis, un nuovo mondo di viaggiare nel mondo dell'arte. Abbiamo quindi l'interesse di sapere dal dottor Citterio da quale formazione sia partito per poter dare inizio a questa affascinante avventura. Bene Federico, buonasera, buonasera a tutti. La mia passione per l'arte, in generale per Milano, risale davvero da molto lontano, direi pure tranquillamente anche dall'infanzia. Poi ho coronato i miei studi universitari con la laurea in storia dell'arte qui all'Università degli Studi di Milano e poi ho conseguito una scuola di specializzazione. Ho maturato il desiderio di realizzare una nuova avventura affinché anche i milanesi stessi possano conoscere la nostra città che offre tantissime potenzialità, nonostante sia percepita quasi unicamente come città del business, della moda e degli affari. In realtà i tesori da riscoprire a Milano ma in generale in tutta Italia sono davvero tantissimi. Prima di addentrarci quindi nelle bellezze della nostra Milano vorremmo conoscere quali delle precedenti città visitate lungo una sorta di Grand Tour da Christian può indicarci e in particolar modo quale aspetto di queste città che lui ci sceglierà potrebbe davvero essere interessante visitare. Ma in questo ideale Grand Tour, per usare un'espressione appunto che andava di moda un tempo quando si segnalava la discesa dal nord delle Alpi di giovani patrizi, in particolare inglesi che venivano a coronare la loro formazione nella nostra penisola, ecco in un tour ideale partiamo magari dal sud e partiamo da una città che è l'emblema del Mediterraneo, della cultura meridionale, ed è Napoli, una città davvero favolosa, una città con dei tesori artistici eccezionali, in particolare che ha una tradizione pittorica che è indimenticabile una volta che la si conosce. Pensate infatti che a Napoli visse per un certo periodo anche il nostro conterraneo, il grande Caravaggio, pittore nato a Milano, poi formatosi appunto a Roma dove andò a lavorare e dove dovette poi fuggire in seguito a un episodio insomma non piacevole che lo vide coinvolto. Ecco dopo Roma proprio Caravaggio riparò a Napoli e il contatto con questo artista forestiero da parte della scuola pittorica locale ma anche della scuola pittorica straniera che ai tempi abitava Milano ebbe sortì degli effetti eccezionali. Quindi a Napoli si formarono e vissero Antonio Ribera, Giuseppe Ribera, detto lo spagnoletto, la grandissima Artemisia Gentileschi coronò appunto la sua straordinaria carriera proprio a Napoli e infatti visitando il suo museo più bello e più importante, il museo di Capodimonte, ospitato nella reggia dei Borboni, si passa dalla flagellazione di Caravaggio, per esempio capolavoro assoluto del grande maestro, arrivando poi alla decapitazione di Oloferne da parte di Giuditta, opera emblematica di Artemisia Gentileschi, passando poi per un artista che io amo molto e che vi consiglio insomma di andare a scoprire, che ancora in cerca di un'identità e viene convenzionalmente chiamato il maestro dell'annuncio ai pastori, proprio dal titolo di un'opera conservata a Capodimonte dove questi indimenticabili velli delle pecore, così crudi, diciamo così realistici, particolari dei pastori con i piedi sporchi, non possono che aver tradito l'esperienza con Caravaggio. Molto bene, quindi lasciando il naturalismo caravaggesco e la bellezza di Capodimonte e delle chiese della città, dove potrete recarvi di persona a vedere, a osservare questo particolare filone di genere della pittura del Seicento, chiederei ora al dottor Citterio una particolare mostra che Acropolis ha visitato in questi mesi in una città quale Firenze, da sempre oggetto di viaggi internazionali, dei flussi turistici di tutto il mondo, ma come precedentemente detto nel Grand Tour, anche meta privilegiata della formazione di questi giovani. Per cui mentre nel Grand Tour la discesa era dalle Alpi fino alle bellezze dell'Italia, della Magna Grecia, il nostro viaggio con Christian proseguirà salendo verso la città dei Medici. Sì, in effetti prima dell'estate abbiamo organizzato un bellissimo viaggio proprio a Firenze, focalizzato sulla esperienza, diciamo, di una mostra davvero eccezionale che è riuscita a mettere insieme due campioni della pittura fiorentina del Cinquecento, Jacopo Carucci, detto il Pontormo e il Rosso Fiorentino, due artisti molto diversi, per certi versi, ma accomunati appunto da una formazione comune alla bottega di Andrea del Sarto e due artisti che hanno, le cui opere appunto davvero provenienti da chiese toscane ma anche da musei di tutto il mondo, hanno arricchito le sale di Palazzo Strozzi. Ricorderei due opere che molto ci hanno colpito durante questa visita alla mostra, sicuramente la visitazione del Pontormo dove la Vergine Maria si reca a visitare sua cugina Elisabetta, un'opera che normalmente è conservata nella pieve di Carmignano, quindi una località poco distante da Firenze, dove attraverso questi panneggi svolazzanti, queste figure quasi sospese da terra e l'utilizzo di colori aciduli apre davvero la strada a un nuovo modo di dipingere, la cosiddetta maniera moderna, infatti sia Pontormo che Rosso, sono considerate un po' gli apripista del cosiddetto manierismo. E per altro verso invece citiamo un'opera di Rosso come la Madonna delle Arpie, un punto in cui si vede in maniera rivoluzionaria la reinterpretazione delle composizioni di Andrea del Sarto. Da parte di un artista anche lui è centrico, che a differenza di Pontormo che rimase quasi esclusivamente in Toscana, Rosso ebbe modo di compiere un viaggio che sarà fondamentale per la storia dell'arte europea, cioè a Fontainebleau, dove darà inizio alla scuola di Fontainebleau che tradisce queste influenze francesi, diciamo, su cui si innesta la cultura italiana. Lasciando le bizzerrie e i virtuoli sistemi stilistici di questi due grandi maestri del Rinascimento Toscano ci piacerebbe salire lungo la Via Emilia per conoscere magari qualche aspetto inconsueto piuttosto nascosto della nostra città di Milano, quelle località che magari rimangono estranee anche in questo caso alla conoscenza della nostra metropoli che si ha solitamente, ma che il Dottor Citerio potrebbe indicarvi per una affascinante e breve visita nella nostra città. Per cui quale tipo di itinerario avete svolto e potreste suggerirci? Sì, sono, come puoi immaginare Federico, davvero tantissimi gli itinerari. Io consiglierei innanzitutto di lasciare da parte luoghi del centro storico come il Duomo, la Galleria, la Scala o il Castello, che sono naturalmente degli emblemi della milanesità e sono celebermi in tutto il mondo, però l'anima autentica di Milano sicuramente la si ritrova in altri quartieri leggermente più periferici e quindi perché no, perché non recarci ai navigli, diciamo per considerarli anche da un punto di vista diverso rispetto a quella che è la comune fruizione di luoghi di divertimento, diciamo di luoghi di ritrovo. Ecco proprio, secondo me, sulle sponde dei navigli milanesi che si possono cogliere ancora tanti tratti dell'identità della nostra Milano. Pensate, i navigli hanno un'origine antichissima perché il primo naviglio, il naviglio grande, fu scavato addirittura nel XII secolo, inizialmente per ragioni irrigue, cioè per favorire appunto l'irrigazione dei campi della fertile pianura padana, poi venne utilizzato per ragioni mercantili e commerciali, per cui pensate che anche i famosissimi blocchi di marmo di candoglia che provenivano dalle cave sopra il Lago Maggiore giungevano a Milano proprio attraverso i barconi che solcavano il naviglio grande e che appunto li conducevano dove esisteva la fabbrica del Duomo. Lungo i navigli nel corso dei secoli insomma crebbe anche un nuovo modo di abitare in città, quindi le cosiddette case a ringhiera, le case a ballatoio dove possiamo ritrovare davvero tanto dell'identità milanese. E un suggerimento che inviterei tutti a compiere è proprio quello di percorrere, di esplorare i navigli dall'acqua e non dalla strada. Infatti da qualche anno è possibile effettuare dei viaggi su dei battelli che riecheggiano quelli che erano le antichi barconi appunto utilizzati per il trasporto dei materiali e ammirare appunto le sponde del naviglio da un punto di vista inconsueto che è quello dell'acqua, per cui vedreste appunto passare ai vostri lati, case dagli intonaci colorati molto bassi, un tempo popolari oggi perfettamente ristrutturate, ponti in pietra che sono così appunto, o in ferro che sono così familiari alla nostra Milano e perché no arrivare appunto anche al di fuori della città lambendo quelli che erano i paesi agricoli fuori di Milano che la nobiltà, l'aristocrazia ambrosiana elesse molto spesso a luoghi di villeggiatura da cui nascono le famose ville di delizia. E parlare delle acque del naviglio certamente mi permette di ricordare un grande artista del passato che pensate del naviglio già sul finire del quindicesimo secolo aveva dato un'idea di struttura con case su più livelli, con magazzini per le merci e stiamo parlando naturalmente del grande Leonardo che venne proprio a creare una sorta di città ideale sull'acqua. Per cui ci piacerebbe conoscere ora dal dottor Citterio tre particolari aspetti della nostra città dove artisti del passato seppero creare le loro meraviglie o comunque legati alla nostra città. Per cui partirei proprio su una storia di un artista della fine del quindicesimo secolo, dell'età di Leonardo che giunse a Milano e magari ci lasciò qualche significativa testimonianza della cultura rinascimentale. Quale può essere uno di questi luoghi da scoprire? Direi Federico assolutamente partiamo da Bramante. Bramante è qua a Milano proprio negli stessi anni di Leonardo e Bramante fornisce alla città quella che possiamo definire un'iniezione di rinascimento perché vede prima ancora dell'arrivo di Bramante a Milano i nostri architetti, capomastri eccetera perseguivano ancora un modo di costruire legato agli stilemi gotici. Prendiamo ad esempio la chiesa di Santa Maria delle Grazie dove vicino a cui si trova il celeberrimo dipinto leonardesco. Ecco se eccettuiamo la seconda parte che è quella della tribuna bramantesca la prima parte è una chiesa ancora tardogotica eppure siamo già ben oltre la metà del Quattrocento. Bramante era un uomo che arrivava dall'Italia centrale. Durante il suo tragitto prima di recarsi alla corte di Ludovico il Moro quindi alla corte sforzesca ebbe modo di formarsi a Roma quindi imparò perfettamente le tecniche costruttive degli antichi grandi architetti romani quindi rimase impressionato dall'arco di Costantino dalle grandi basile che appunto che si trovano lungo il foro romano. E poi non dimentichiamo fece tappa a Firenze dove potè conoscere le grandi novità di Brunelleschi e degli altri maestri appunto del Rinascimento Toscano. E c'è un luogo qui a Milano che suggerisco ai nostri amici di andare a visitare anche perché è un luogo davvero quasi nascosto pur essendo a pochissimi metri da Piazza del Duomo. Ecco se voi lasciate la Piazza del Duomo alle vostre spalle invocate la Via Torino appena all'inizio della strada sulla sinistra leggermente discosta dalla strada trovate una facciata di una chiesa in fondo non diciamo particolarmente rilevante eppure basta entrare all'interno di questa chiesa per essere avvolti da un'atmosfera rinascimentale completamente diversa rispetto alla facciata che infatti ottocentesca. È la chiesa di Santa Maria delle Grazie, di Santa Maria presso San Satiro dove appunto Bramante fornisce il suo primo grande esempio di illusionismo, di trompe, cioè di inganno ottico. Pensate che il Duca affidò a Bramante appunto la costruzione di questo grande santuario ma dato che la zona era estremamente abitata, quindi erano abitazioni e case da tutte le parti, Bramante non aveva quello spazio adatto appunto per poter terminare il santuario con un'adeguata abside che ne sottolineasse diciamo l'impunenza. E fu allora che si inventò quello che divenne davvero uno dei primissimi inganni ottici della storia, quindi le teorie rinascimentali della prospettiva applicate sull'architettura. C'è una finta abside. Entrando infatti in chiesa si percepisce un'abside lunga 9 metri circa, in realtà pensate lo spazio reale è ridotto a meno di un metro, quindi è soltanto avvicinandosi all'abside che si può capire come Bramante in realtà ci abbia preso gioco un po' dei nostri occhi, della nostra vista, proprio creando uno spazio illusorio che in realtà appunto non esiste. Davvero consigliamo a tutti quindi di visitare questa chiesa poco distante dal Duomo e magari ai più sconosciuta, per apprezzare questi giochi illusionistici di un maestro fondamentale del Rinascimento italiano. Ricordiamo che poi andrà a Roma e sarà architetto della Basilica di San Pietro. Quindi viaggiare con Aporopolis, vedete, significa viaggiare materialmente nello spazio, ma anche temporanealmente nel corso dei secoli passati e della storia dell'arte. Per cui vorremmo conoscere magari un dipinto ora particolarmente caro al dottor Citterio di Milano o legato alla storia di Milano, di un altro grande maestro della storia dell'arte non solo italiana ma europea. Quindi cosa potremmo suggerire ai nostri amici, magari poco distante da San Satiro, di poter visionare? Assolutamente. Una brevissima distanza da San Satiro per cui percorrendo la via Speronari sulla destra di via Torino si giunge a un museo dal fascino davvero ineguagliabile ed è la Pinacoteca Ambrosiana. La Pinacoteca e contestualmente ad essa la biblioteca vennero fondati dal cardinal Federico Borromeo. Tutti voi sarà familiare soprattutto attraverso le famose pagine dei Promessi Sposi. Federico era un grande appassionato, un grande cultore di arte. Ecco, prima di insediarsi a Milano in qualità di arcivescovo ebbe modo di studiare a Roma, quindi dove ricevette anche delle cariche prestigiose come appunto presiedette l'Accademia di San Luca che radunava i pittori locali e in quell'occasione conobbe un giovane artista milanese, allora certamente non famoso appunto quanto oggi, che è Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il cardinal Federico si innamorò di un dipinto di Caravaggio che noi chiamiamo la canestra di frutta. Si tratta di un dipinto di dimensioni non elevatissime in cui viene rappresentata una canestra in paglia disposta appunto su una sorta di ripiano dove all'interno fanno bella mostra di sé, pere, mele, uva, quindi tutta una ricchissima appunto natura morta. Federico se ne innamorò, la acquistò per la sua pinacoteca, che tra l'altro è considerata la prima pinacoteca aperta al pubblico. Pensate che Federico spese tutto il resto della sua vita per cercare un quadro della stessa qualità per poter diventare il pandan, cioè per poterlo esporre di fianco alla canestra di frutta e mai ci riuscì, non ne trovò mai uno della stessa qualità, pertanto la canestra rimase sempre esposta, isolata, come tuttora, all'interno del suo museo. Ecco lì, al di là dei significati cristologici che chiaramente sono inseriti all'interno della composizione, al di là dei significati sulla vanita su Memento Mori, cioè su tutto quanto concerni appunto la transitorietà dell'uomo rispetto all'eternità di Dio, quello che mi preme proprio sottolineare è la visione nuova che Caravaggio affronta con quest'opera, una visione fotografica, con una precisione lenticolare, restituisce un'aderenza alla realtà davvero indimenticabile. Pensate che le mele, le pere, appunto e l'uva infatti tradiscono uno stato quasi di decomposizione, quindi Caravaggio le rappresenta davvero quali erano davanti ai suoi occhi, quindi una visione realistica che è così importante che abbiamo detto poi, dicevamo prima, avrebbe influenzato non soltanto la scuola lombarda ma anche quella napoletana per esempio. Davvero grazie per affascinarci con queste descrizioni approfondite e emozionali dei capolavori della nostra città. Parlando del resto di Caravaggio possiamo vedere come a partire da un dipinto, questa canestra che può essere considerata all'inizio del genere della natura morta, si possa legare l'esperienza biografica non soltanto a Milano ma più città. Caravaggio fu a Napoli come abbiamo visto ad inizio della nostra conversazione, fu anche a Roma per cui viaggiare anche attraverso gli occhi di un pittore del passato ci permette di scoprire e approfondire la nostra conoscenza delle bellezze del nostro paese. Per cui desidererei conoscere ora un ulteriore grande maestro che magari dipinse a Milano dando la propria esperienza alla città e influenzandone poi anche gli esiti successivi. Quindi entrando nel Settecento, nel grande mondo della pittura barocchetta e rococco, chi potrebbe essere un grande maestro da suggerire agli amici da casa amanti della pittura di eleganza tipica dell'epoca? Sicuramente Giovanni Battista Tiepolo, il grande artista veneziano che venne a lavorare nella nostra città per ben tre volte. La terza ed ultima volta appunto fu incaricato dai marchesi clerici di affrescare la grande galleria del palazzo omonimo, conosciuto ancora oggi come Palazzo Clerici, che si affaccia appunto sulla via Clerici. Per cui siamo tra l'altro a breve distanza dalla Pinacoteca Ambrosiana che prima abbiamo citato, per cui possiamo compiere questo viaggio nei secoli in un'estensione geografica piuttosto limitata. Pensate che i clerici erano di estrazione non nobile, erano dei mercanti, mercanti di stoffe originari della cadenabbia, cioè della zona di Tremezzo del lago di Como e riuscirono a conseguire il titolo di marchesi grazie a questo accumulo di ricchezze davvero favoloso. E per sottolineare il loro neonato status symbol, quindi dopo aver ricevuto la patente di nobiltà del titolo marchionale, decisero di suggellare questa nuova status symbol all'interno della città con un grandioso palazzo e quindi scelsero il principe, insomma il pittore più alla page di questo periodo, quindi chiamarono da Venezia proprio il grande Giovanni Battista Tipolo, il quale abituato com'era a decorare le volte appunto dei saloni delle ville venete o dei palazzi veneziani con i suoi trionfi di divinità, di solito di pianta quadrata, si trovò spiazzato nel dover decorare una galleria molto lunga e molto stretta, per cui un rettangolo assolutamente allungato sui lati più lunghi e molto stretti sui lati brevi. Ecco, questo antipatico spazio da affrescare fu risolto però da lui in maniera straordinaria, quindi Tipolo riesce davvero ancora oggi a sorprenderci per la fantasia con cui riuscì a disporre queste divinità dell'Olimpo che giocano insieme alle rappresentazioni dei continenti in quella che è la corsa del carro del sole guidata da Apollo. Quindi noi non percepiamo questo spazio così diciamo allungato e ristretto grazie all'esuberanza barocca delle sue figure, grazie ad un perfetto uso del trompe l'oeil, quindi abbiamo cominciato con il trompe l'oeil bramantesco e tre secoli dopo lo troviamo applicato sulla volta di un salone settecentesco appunto, il tutto poi coronato con questi suoi deliziosi colori, con i colori crepuscolari appunto con il chiaroscuro, secondo un gusto narrativo, una fantasia che lo resero allora il pittore più famoso. Purtroppo fu però anche il segno di una fine di un'epoca perché poi con l'illuminismo appunto e con il trionfo del neoclassicismo Tiepolo poi apparve improvvisamente ormai fuori moda. Quindi bellezze illusionistiche rinascimentali con Bramante settecentesche con il grande Giovanni Battista Tiepolo intervallate da una visita all'Ambrosiana dove con la canesta di Caravaggio avremo modo di percorrere l'inizio sia del genere della natura morta che del naturalismo che il Merisi inizia proprio a partire da Milano. Quindi ringraziamo davvero Christian perché attraverso un itinerario di pochi passi potremmo dire ci ha consentito di viaggiare attraverso tre dei più grandi artisti non solo italiani ma che influenzeranno tutta la pittura europea ricordiamo Tiepolo andrà poi in Germania piuttosto che a Madrid come il verbo caravaggesco il suo naturalismo farà scuola non solo in Italia ma per tanti altri artisti che verranno dall'estero e che lì poi porteranno la pittura caravaggesca. A questo punto penso tutti siamo davvero interessati di sapere a quale saranno le prossime iniziative, le prossime visite di Acropolis che come vedete non daranno solo luoghi e notizie storico-artistiche ma soprattutto trasmetteranno le emozioni del dottor Citterio che ci consentirà di leggere sotto una particolare veste e luce questi itinerari da scoprire. Sì partiamo con quello che se posso dire davvero uno dei miei luoghi del cuore della città Villa Necchi Campiglio. Villa Necchi si affaccia sulla via Mozart una via che corre parallela al Corso Venezia ma rispetto al Corso Venezia che è molto trafficato e rumoroso via Mozart è una via estremamente tranquilla circondata da edifici primo novecento molto affascinanti diciamo di grandissimo prestigio ed è una zona residenziale tranquilla ed è proprio per questo motivo che nel 1932 una coppia di borghesi ricchissimi provenienti da Pavia decisero di commissionare ad un giovane architetto ma allora molto alla page Piero Portaluppi l'edificazione di una villa pensate e non di un palazzo quindi pur essendo in pieno centro cittadino vollero una villa quasi fosse una villa suburbana. I lavori iniziarono nel 1932 terminarono nel 1935 la villa sorprese immediatamente tutti proprio per il grande sfarzo e anche per i comfort moderni per il tempo pensate infatti che fu la prima casa ad avere una piscina riscaldata appunto durante l'inverno ancora oggi visibile all'interno della villa un campo da tennis e all'interno saloni dove spiccavano materiali pregiatissimi come il palissandro e l'utilizzo di altri legni e boiserie davvero davvero notevoli e lì vissero armoniosamente per molti anni questa coppia di sposi Gigina Necchi, Angelo Campiglio e la di lei sorella Nedda Necchi. L'ultima a scomparire di questi tre personaggi appunto fu Gigina Necchi che morì l'11 settembre del 2001 e decise di prima di morire decise di lasciare la casa al FAI, Fondo Ambiente Italiano in modo che la potesse ristrutturare ed aprire al pubblico cosa che infatti è avvenuta appunto a partire dallo scorso 2008 dopo moltissimi anni di lavoro. Ancora oggi quindi è possibile entrare all'interno di questa villa e di immergersi nell'atmosfera degli anni 30 quindi ancora oggi sembra di essere accolti da queste sorelle appunto e dal marito Angelo Campiglio ma rispetto a loro la villa se vogliamo sia anche ulteriormente arricchita grazie ad esempio ad una collezione davvero straordinaria di dipinti che è stata donata alla villa da Claudia Gianferrari purtroppo recentemente scomparsa e si parla di quadri di Sironi, di De Chirico, di Morandi per cui grandissimi personaggi che hanno lasciato queste opere nel terzo decennio del ventesimo secolo per cui la loro collocazione si sposa davvero molto bene con l'arredamento della casa. Quindi diamo anche ripetiamo per gli amici che volessero partecipare a queste visite la data per Villa Necchi Campiglio sarà domenica 19 ottobre nella mattina verso le ore 11. Mentre la successiva di queste prossime iniziative quale sarà? Sì il 23 ottobre ci recheremo a Palazzo Reale per visitare la mostra di Segantini appunto un artista molto amato un artista dell'Ottocento nato ad Arco di Trento formatosi qui a Milano all'Accademia di Brera che a un certo punto così come fecero molti altri artisti della sua epoca decise di lasciare la città che forse non lo ispirava più nei suoi soggetti all'epoca le città erano in grande fermento urbanistico e scelse di trasferirsi sulle Alpi nell'Engadina cioè nell'attuale zona di Saint-Moriz in Svizzera quindi dove appunto dipinse questi pascoli queste montagne diciamo questi paesaggi naturali con questa tecnica che noi chiamiamo oggi divisionismo che è un po' la risposta italiana al pointillismo francese però tuttavia mentre il pointillismo diciamo procede per macchie di colore generalmente circolari la pittura italiana divisionista invece stende la pittura in filamenti di colore puro che il nostro occhio poi accosta e percepisce come omogenee in mostra quindi troveremo capolavori di Segantini provenienti anche dallo stesso museo che a lui è dedicato nella località celebre località di Saint-Moriz oltre che tesori generalmente ospitati nelle collezioni milanesi come il quadro delle due madri dove Segantini in maniera molto commovente accosta una madre umana mentre culla il suo bambino di fianco ad una madre animale che ha una mucca insieme al suo vitellino bene quindi ricordiamo anche in questo caso ripetiamo la data giovedì 23 ottobre di sera perfetto successivamente so che visiterete la casa museo Paul di Pezzoli la casa di questo grande collezionista che vi consentirà di apprezzare non soltanto l'architettura dell'edificio ma soprattutto il gusto eclettico e la ricchezza dei generi artistici che Paul di Pezzoli donò alla città. Davvero un altro luogo straordinario della nostra città sito in via Manzoni al numero 12 di Mora del Conte Gian Giacomo Paul di Pezzoli il quale morì nel 1879 senza moglie e senza figli e quindi decise di donare la sua casa con la collezione che lui aveva radunato durante tutta la sua breve esistenza in fondo perché scomparve a 57 anni e decise di aprirla al pubblico cosa che avvenne pensate già nel lontano 1881 e una visita al museo Paul di Pezzoli significa appunto davvero immergersi nei secoli passati, entrare a contatto pensate con artisti come Piero della Francesca, il Pollaiolo, Giovanni Bellini, Mantegna quindi sono davvero tanti e tanti questi artisti che le cui opere appunto ancora oggi sorprendono i visitatori di questa sfarzosa dimora appunto di fine ottocento. Senza dimenticare poi anche la collezione di armi appunto da lui tanto diciamo ricercata oltre che di moltissimi oggetti alcuni dei quali degni davvero di una delle più esclusive Wunderkammer, cioè le Camere delle Meraviglie. So che successivamente alla visita di Segantini vi sarà un'altra visita a Palazzo Reale per osservare una nuova mostra temporanea perché Acropolis avete avuto modo di vedere, permette a voi di conoscere sia luoghi pubblici come monumenti, chiese, musei ma anche di partecipare attraverso la guida sapiente e illuminante di Christian a mostre temporanea, per cui Coale sarà la prossima? Sì, noi infatti diamo incontro anche effettivamente all'esigenza delle persone che vogliono visitare queste grandi mostre che da anni caratterizzano la programmazione di Palazzo Reale che sono solitamente davvero dei grandi successi appunto in termini di visite e andremo a visitare il giorno 20 novembre giovedì sera appunto la mostra di Marc Chagall. Ben 220 infatti saranno le opere che arriveranno da diversi musei europei volti a ripercorrere la stagione di un altro grande artista, in questo caso emblematico del ventesimo secolo, di origini russe, poi trasferitosi appunto in Francia, il quale è l'artista visionario per eccellenza, quindi ha saputo davvero sorprendere moltissimi spettatori ornando appunto libri quali la Sacra Bibbia per esempio, ornando le vetrate appunto di cappelle, di edifici privati con dei soggetti caratterizzati da colori molto vivaci, diciamo da creature quasi sospese appunto nell'aria, secondo un gusto che davvero lo caratterizza, quindi basta entrare un pochino in confidenza insomma con quello che è lo stile di Chagall appunto per rimanerne davvero sempre colpiti e per risultare familiari appunto al suo stile. Ringraziamo il dottor Citterio e Acropolis per averci consentito di viaggiare nell'affascinante mondo dell'arte, di viaggiare non solo attraverso il movimento dello spazio ma soprattutto attraverso gli occhi e le emozioni che l'arte ci trasmette. Per quanto riguarda gli appuntamenti, le date delle prossime mostre vi invitiamo a contattare lo 02 29 52 90 57 o a visitare il sito www.artsantiquasrl.com per saperne di più. A questo punto vi salutiamo, vi ringraziamo e vi aspettiamo alla prossima puntata dedicata all'affascinante mondo dell'arte antica. A presto da Federico Bulgarini. Grazie a tutti.